torniamo a parlare di fantasy italiano con una bella recensione un libro che vi avevo anticipato in uno short qui di youtube qualche tempo fa e appunto di tempo ne è passato e quindi è arrivato il momento di farvi un breve commento su una storia comunque che merita perché scritta bene è italianissimo è un fantasy e funziona allora il libro è i venturieri della notte di giorgio smover ve lo mostro a favore di camera eccolo qui lettere elettriche editore lettere elettriche è un editore che stimo molto una casa editrice fondata da vittorio cirino molto attiva e molto propensa a portare avanti un discorso di approfondimento del fantastico anche attraverso alcune riviste chiamiamolo così dei magazine che spaziano dal fantasy all'horror al crime insomma si sta muovendo bene sta andando a occupare di quelle nicchie in modo sapiente e lo sta facendo anche con queste pubblicazioni allora il venturieri della notte è un fantasy dicevamo storico italiano che ha per protagonisti i reduci disincantati della terza crociata che vengono incaricati sostanzialmente di trovare un mago arroccato nel nord est del nostro paese questo per sommi capi la trama un mago clingsor che su cui alleggia molto mistero che vive anzi si scoprirà è intrappolato in un maniero che non può lasciare per motivi che poi i nostri eroi scopriranno e in una terra che è quasi mitte l'europa il nord est italiano è quasi mitte l'europa e intendo dire soprattutto per tutta quella parte che concerne l'elemento soprannaturale fantastico le creature che i nostri si troveranno a incontrare e ad affrontare quindi è un'atmosfera che va tra il il gotico e il folklore locale in in epoca chiaramente storica quello che qua lì dopo la terza crociata ripeto si tratta di un fantasy fantasy vero proprio non urban fantasy niente di tutto ciò un fantasy storico storicamente accurato questo c'è da dire perché smuiver è un signor narratore narratore molto preciso narratore puntuale con uno stile assolutamente erudito che però non va a discapito della scioltezza dello sviluppo della trama infatti trattasi di un romanzo breve sono cento e qualcosa pagine quindi si ha puntato su una ricostruzione storica del periodo dei protagonisti delle location accurata come suo solito perché smuiver da quel che so io ha proprio questo stile ma allo stesso tempo la storia è scorrevole è dinamica ricca d'azione i protagonisti si trovano a scoprire appunto qual è la vera natura della persona del mago che devono incontrare qual è la natura del suo castello e qual è la loro stessa natura perché una parte interessante della caratterizzazione dei protagonisti è questo loro aspetto un po' disincantato malinconico un po' dei loser se vogliamo anche se dei loser di qualità è una categoria di personaggi che a me in un romanzo piace molto mi piace assolutamente più che l'eroe invincibile che non so il barbaro indistruttibile parlando sempre di fantasy o l'eroe grimdark che non crede più niente nessuno no qui ci sono dei personaggi sfaccettati dei protagonisti sfaccettati con una persona con delle personalità complesse e con un passato che ha creato in loro delle delle cicatrici che si portano dietro e che cercano di occurare o di nascondere personaggi sono tutti particolari abbiamo Alain de Rebeck, Gemma d'Alto Pascio abbiamo degli arcieri ungheresi molto interessanti insomma ve li lascio scoprire sicuramente un bel gruppo di avventurieri che non lasciano indifferente il lettore smaliziato che magari un po' stufo di trovare nei fantasy i soliti protagonisti stereotipati specialmente nei fantasy di due tipi di tipo tolkieniano di cui se ne può veramente poco si può più diciamo e i fantasy di tipo dinastico che hanno già detto tutto e che quindi tendono a ripetere degli stereotipi degli archetipi insomma poche parole Martin fin quando ha scritto fin quando ha scritto con voglia ha dato ha spremuto per bene il fantasy dinastico poi per l'amor di dio c'è chi leggerebbe come in tanti generi le stesse storie riproposte mille volte e c'è chi cerca qualcosa di un po' diverso e il venturiero della notte è un qualcosa di un po' diverso insomma per quello che offre per l'ambientazione come ho detto per i protagonisti e per la scelta anche di mostrare come elemento fantastico soprannaturale un creature miti e magie legati al in qualche modo a quello che era il credo popolare di quei tempi qua abbiamo per esempio i crampus abbiamo citazioni di testi di magie tra virgolette realmente esistiti e altre cose davvero piacevoli quindi tutto questo per dire che il libro è molto curato in tutti i suoi dettagli non è quel fantasy scritto così mettiamoci quello che vogliamo perché tanto è fantasy smover è uno che sa il fatto suo ha fatto degli studi ha curato l'ambientazione e il world building e soprattutto sa scrivere tra l'altro un libro che si legge velocemente e che è autoconclusivo anche se da quello che ho capito si riallaccia ad altre opere dallo stesso autore ma qui c'è una storia che inizia e finisce e finisce che ve la potete godere e poi eventualmente decidere se dare altre chance all'autore stesso e leggere altre sue cose io vi lascio quindi col consiglio di lettura che riguarda il romanzo di cui vi ho appena parlato e con l'invito al solito di mettere un like a questo video perché aiuta molto a crescere la pagina so di dire cose molto scontate e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale perché come vedete stanno arrivando molte recensioni di tanti arretrati e altre ne arriveranno ancora